I due laghi tentano il difficile ad arrivare alla croce. Queste sono madde, sono fuori di testa. Io vado a piedi però. Adesso si alza, adesso molto in piedi, la vedo dura. Ai piedi ragazzi. Poi c'è l'erba anche alta, rododendri, mirtilli, ginepri, adesso Simo gira la moto. Ma sta in piedi proprio. Eh sì, poi l'erba è alta, ti fa scivolare. No ma poi l'erba non vedi com'è, guarda come è in piedi là. Ma non sembrava così brutta da. Stenta eh. Ma credo, sono sceso lì. Eh ma dopo scendere, se prendi velocità non ti fermi più eh. Poi non c'è neanche a sentire a partire, stai in sentire. Eh stai in sentire, che magari l'erba è un po' bassa riesci anche a fermare, no? Eh eh vedi. Poi ci sono i buchi che non li vedi neanche, ti accorgi quando sei dentro. E eh 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 ci sta pesando sopra ho trovato una nuova via potenta poi ti scivolano la moto nei buchi c'è l'erba troppo alta non vedi niente ci riprovo ancora guardalo là la 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 forse torna indietro ma è che particoloso tornare non è mica semplice mette giù il piedino bene meno male eh bene Bu, meno male.